Sono le 14 quando sembra tutto finito con lo scalo ferroviario riaperto ai cittadini e l'accelere che dopo aver accennato una piccola carica cede il passo al dialogo con i manifestanti che non vogliono un altro sito di compostaggio a battipaglia. Ma c'è un altro gruppo che nelle ore lievita di volume ed è quello che si raduna a via Belvedere nei pressi di un noto bar. Tra loro ragazzi che rappresentano le forze associative della città insieme a membri del comitato. Il tratto che le accomuna è la rabbia. Non vogliono altri rifiuti a battipaglia e per impedirlo sono pronti a bloccare l'autostrada. Per ora gli uomini della questura insieme al vicequestore in macconcia e al tenente dei vigili urbani Gerardo Iuliano bloccano l'accesso alla maxirotatoria. Ma a placare gli animi questa volta ci pensa la sindaca Cecilia Francese che convoca un'assemblea prevista il primo dicembre a Palazzo di Città. Nel mentre autorizza un presidio permanente a Piazza Aldomoro. Sono le 17 quando la strada si libera e tutto torna alla normalità.